La via della conoscenza, gruppo di approfondimento, attraverso Attilio M, una voce. Avete chiesto di parlare del morire dell'agente. Agente è colui che nel compiersi di un'azione si identifica in essa, quindi è colui che si dichiara essere protagonista o titolare di quell'azione ed è colui che si dichiara esserne l'artefice o creatore. La via della conoscenza non vi parla della sua morte, ma di un processo del suo morire come agente. Quando l'agente scompare come identificazione in un io, siamo in presenza di una realtà non mente, ovvero sia non più di un colui. La via della conoscenza è un controprocesso rivolto ai processi e dalle strutture della vostra mente. Vengono messi in crisi i vostri attaccamenti e le vostre identificazioni nelle azioni, nei pensieri e nelle emozioni. Quando vi aprite al controprocesso, la vostra struttura mentale viene negata in ambiti sempre più ristretti, anche perché siete attirati dalle continue provocazioni che subite, dalle sistematiche negazioni e dai suoi tanti paradossi. Quando c'è una presa di distanza dalle proprie strutture, il sorgere del dubbio, inizia il processo del morire del proprio io agente.